Federica Piacentini, buongiorno! Buon pomeriggio a voi, bentrovati! Comincia a Brooklyn, è questo il romanzo di Federica Piacentini pubblicato da Nutrimenti e la nostra ospite è collegata con il posto delle parole da New York. Oggi New York si è risvegliata come? Ci racconti? Oggi si è svegliata con la neve, c'è stata una grande nevicata la notte scorsa e quindi la città è coperta di neve, il Central Park è particolarmente affascinante con la neve in questo periodo, peraltro comincia a Brooklyn, inizia proprio a gennaio con una forte nevicata. Infatti proprio per quello le ho posto questa domanda perché c'è questa coincidenza. Ma a New York quando nevica è sempre un'allerta così, è sempre una bufera di neve che New York diventa paralizzata oppure sono le cose che arrivano a noi in Italia? No, solitamente le nevicate vengono gestite in maniera molto efficace da parte della città, non si paralizza. Certo, quando nevica e nevica molto ci sono delle allerte, è bene stare a casa ma semplicemente perché è faticoso e difficile camminare nella neve alta e quindi non si può uscire per questa ragione, ma dopo mezza giornata ma anche meno un paio d'ore, le strade sono praticabili e si può tranquillamente uscire e svolgere le proprie attività. Peraltro passano sempre gli spalaneve per cui la città non si paralizza, non si immobilizzano. Ascolti Federica Piacentini, ma lei cosa vede dalla sua finestra in questo momento? Dalla mia finestra, io vivo nell'Upper East Side, che è il braccio a destra di Central Park guardando la cartina e vedo Third Avenue, la strada è ghiacciata proprio perché non batte il sole a causa degli alti palazzi per cui la strada questa mattina è ghiacciata, ovviamente i tetti delle altre palazzine più basse del palazzo in cui vivo io sono innevate, sulla mia sinistra c'è l'East River e alla mia destra c'è invece Central Park con il laghetto che sembra essere ghiacciato, non ci sono ancora stata, vi farò sapere nel pomeriggio. E quindi è necessario fare la passeggiata e noi adesso per così dire facciamo una passeggiata a Brooklyn, cominciamo a farla questa passeggiata perché già Federica Piacentini ci ha detto che questo romanzo comincia sotto la neve, esattamente comincia i primi giorni di gennaio e partiamo però Federica Piacentini dall'immagine di Copertina perché questa è un'immagine che ormai è un classico, questo taglio fotografico, però non è un classico vederla sotto la neve. Sì, non è così scontato vedere il ponte di Brooklyn innevato, è peraltro un'esperienza straordinaria che invito tutti a fare non appena le acque si calmeranno un pochino e si potrà tornare a viaggiare con serenità. Però questa è un'immagine, quella scelta dallo staff di Nutrimenti, da Carpi, molto evocativa, molto bella e che racconta benissimo il cuore ovviamente del romanzo, questo freddo che un po' ci percorre ma che poi siamo anche in grado di sciogliere e di sconfiggere in una maniera o nell'altra. Eh sì, Federica Piacentini, il freddo non è solamente quello meteorologico in questa storia ovviamente. Adesso andiamo a conoscere questo ragazzino che poi non è ancora un ragazzino, un bambino, nove anni o poco più, si chiama Martin Gayle e Martin Gayle è veramente uno stupore in tutte le 170 pagine di questo romanzo. Stupore perché ha qualche cosa veramente di molto particolare che ci viene raccontato in questa storia. Qual è la particolarità che ha in sé questo bambino, Federica Piacentini? Io credo che Martin abbia come caratteristica principale una forte tenacia e una straordinaria volontà. questi due elementi rendono Martin particolarmente amato e soprattutto lo rendono un eroe, un eroe moderno, un eroe dei nostri tempi, che vive la città di New York a tutto tondo nonostante la sua età e ne rappresenta anche appunto la forza e la tenacia. In questo possiamo dire che New York City sia una grande madre, un'altra grande madre, lui ha tante madri all'interno di questo romanzo, però è un'altra grande madre per il piccolo Martin, perché attraverso la città e attraverso gli insegnamenti della madre biologica, ovvero Lea, gli arrivano dei valori importanti. Quello della tenacia, della forza di volontà di riuscire nonostante il fallimento è certamente uno di questi, insomma. E poi vado a prendere l'ultima parola, per così dire, che è scritta in questo libro, è la parola perseveranza, nella pagina dei ringraziamenti, grazie a tutti coloro che hanno letto la storia di Martin e porteranno nel cuore la sua perseveranza. Questa parola che non ha molta cittadinanza in noi, a dire il vero, magari non capiamo nemmeno più tanto il significato, ma Martin Gayle con la sua tenacia, ovvero con la sua perseveranza, ci insegna veramente molto, non solo per quanto lui vuole fare, per il suo giocare a scacchi, che non è semplicemente un gioco, uno sport, possiamo dire così, un passatempo, ma è un obiettivo molto preciso e anche qui nel gioco degli scacchi la perseveranza è un qualcosa che ti dà sempre un risultato, presto o tardi, e questo Martin se lo aspetta. Sì, decisamente, Martin persevera, non si tira indietro, si batte finché può, finché il destino glielo permette, gioca la sua partita con coraggio, anche questa è una parola molto importante all'interno del romanzo, il coraggio insieme alla perseveranza e con amore, perché c'è anche molto amore nella storia di Martin Gayle e della sua famiglia, e quindi sì, insomma, perseveranza, amore, coraggio sono alcuni dei grandi messaggi che io e Martin insieme abbiamo voluto raccontare. Ma il racconto di una famiglia, il racconto anche di un dolore, il racconto di una malattia, e in questa situazione di malattia Martin sceglie di fare, possiamo dire, un gesto eroico, per certi aspetti lo è, sicuramente, almeno io l'ho letto così, ma non volendo fare l'eroe della mitologia, ma è comunque un eroe in ogni modo, anche volendo, ma soprattutto dovendo imparare a giocare gli scacchi. Giocare gli scacchi, non lo dico io, ma da sempre, è rappresente il gioco della vita e non è solamente la teoria, la strategia di una guerra, ma spostare le pedine su una scacchiera, e questo Martin lo impara bene, è spostare anche lo sguardo sulla propria vita, sui movimenti, sulle decisioni da prendere, in sostanza sul dare il senso a ogni decisione che noi prendiamo, lui compreso soprattutto. Sì, il gioco degli scacchi ha finito per rappresentare benissimo non soltanto l'esperienza di vita di Martin, ma anche la vita a New York City, New York stessa vista dall'alto può sembrare un'enorme scacchiera. C'è stata una combinazione di eventi molto interessante, per cui io ho effettivamente sognato Martin di fronte a una scacchiera, non potevo immaginare si trattasse naturalmente di New York, ai tempi vivevo ancora in Italia, mi sono trasferita poco dopo, però gli scacchi, mano a mano che scrivevo il romanzo, mi sono resa conto che il gioco degli scacchi era davvero vincente all'interno della struttura narrativa del romanzo e ovviamente rifletteva le caratteristiche e le particolarità del protagonista di Martin. Sicuramente gli scacchi abbracciano anche una filosofia di vita a metà tra la sconfitta e la vittoria. Mi è stato anche spiegato che in tempi più remoti, nel gioco degli scacchi, chi perdeva doveva alzarsi e stringere la mano all'avversario, accade l'esatto contrario di quello che noi ci aspettiamo, chi vince si alza e stringe la mano all'avversario. Nel gioco degli scacchi un tempo non era così e questo a mio avviso è molto educativo perché significa riconoscere la propria sconfitta e riconoscendo la propria sconfitta si procede lungo la strada della vittoria. Ecco Martin fa esattamente questo percorso, impara a vincere e a perdere, impara a vivere in una città come New York e impara anche a capire quanto amara possa essere la vita ma quanto dolce in fin dei conti possa essere la vittoria. Ma lei gioca a scacchi Federica Piacentini? Allora, io giocavo un pochino a scacchi prima di iniziare a scrivere questo romanzo, ma davvero un pochino nel senso che spostavo pedoni, cavalli e re in maniera molto meccanica. Poi dovendo iniziare a scrivere sul serio e dovendo far muovere Martin davanti a una scacchiera ho iniziato a studiare e mi sono ritrovata a un mare magnum ovviamente di manuali, testi e quant'altro perché si tratta di una disciplina molto molto antica alla quale mi sono appassionata per forza di cose, ma nonostante tutto devo dire che c'è ancora molto da studiare, molto da fare e io ho miseramente perso senza dignità innumerevoli volte durante la scrittura e la stesura del romanzo. Ricordo la prima partita di Martin, non sapeva ancora nemmeno i nomi delle pedine, se ricordo bene non ricordava come si chiamava l'alfiere e chi giocava con lui diceva ma è la tua prima lezione, non preoccuparti e quindi da lì comincia, per così dire comincia con una sconfitta perché non riesce a comprendere poi piano piano il suo progetto senza più rivelare più di tanto ovviamente di questo romanzo per rispetto dei nostri ascoltatori prossimi lettori e poi piano piano la storia forse gli darà ragione, lui riuscirà, chi lo sa, ad aiutare la madre perché la madre ha una malattia e quindi negli Stati Uniti se stai male c'è bisogno di soldi anche tanti e Martin vuole partecipare. Sì, Martin vuole essere d'aiuto come tutti i bimbi, tutti i bambini vogliono sentirsi utili in parte della società e quindi anche della famiglia che è il primo nucleo sociale per loro e quindi vuole rendersi utile lo fa attraverso il gioco degli scacchi e inizia a perdere sin da subito, ma non perde poi davvero nel senso che lui sta imparando e poi finisce nelle mani di una sorta di impostore e quindi inizia a perdere ma non davvero, sta imparando, imparerà piano piano, lezione dopo lezione e amerà alla fine il gioco degli scacchi che però all'inizio sono soltanto per lui uno strumento, uno strumento per riuscire nel suo obiettivo ed è per questo che Martin ha una marcia in più rispetto agli altri giocatori di scacchi e rispetto agli altri bambini perché lui ha, travalica il gioco degli scacchi e arriva a un obiettivo fondamentale, un obiettivo importante che è quello appunto dell'amore e dell'amore verso sua madre che è l'unico e tutto ciò che conta per lui, anche alla luce del fatto che ha un papà Jack Gale che ha numerosi problemi, è completamente assente e a lui manca la figura paterna ed è per questo che non può fare a meno anche della figura materna, dunque gli scacchi sono per lui funzionali, piano piano capisce che possono essere, possono rappresentare il suo futuro, ma sua madre e la sua famiglia lo aiutano in questo processo non soltanto di cambiamento ma anche appunto di presa di coscienza di se stesso. Noi abbiamo parlato di Martin, della sua famiglia, della scacchiera, ma c'è un'altra scacchiera che è presente in questo romanzo, la scacchiera della città di New York perché qui Federica Piacentini ci fa vivere grazie a Martin, ci fa camminare per strada, ci fa vedere con parole sue questa città. Sì, il punto di vista di Martin è stato per me fondamentale per riuscire a raccontare una città diversa da quella che ci hanno mostrato film, libri e anche la cronaca stessa per molti anni, c'è da dire che New York a causa della pandemia è cambiata moltissimo, questo è vero, però resta una città vibrante, una città che riesce a dare molto e anche a entrare in sintonia con chi la vive, con chi sta qui ogni giorno, questa è stata una delle mie chiavi per riuscire a raccontare New York da un punto di vista diverso, che non è soltanto quello di Martin, ma se vogliamo anche il mio punto di vista e un punto di vista che è a metà tra Occidente e Oriente, tra un'America e un'Europa che si incontrano nella letteratura, nella letteratura europea perché qui ci sono stati grandi scrittori europei, pensiamo a Pasolini che è stato qui per pochissimi giorni ma ha camminato lungo le Avenue e ci ha raccontato una New York con il suo sguardo, con quello sguardo rivolto alla povertà, ai poveri, agli ultimi, pensiamo a Oriana Fallaci, pensiamo a Tiziana Terzani, insomma io sono arrivata qui con una letteratura già abbastanza vasta che mi ha aiutato a vedere New York da una determinata prospettiva e poi la letteratura americana invece di contro mi ha dato degli strumenti in più per riuscire a definire il punto di vista di Martin, quindi questa è una città che ho raccontato attraverso Martin, attraverso la mia esperienza personale ma anche attraverso un'esperienza letteraria tutto tondo, questo sacco incredibile che avevo portato con me. E com'è la sua esperienza personale rispetto a questa storia Federica Piacentini? Dunque io sono arrivata qui come dicevo prima pensando di conoscere molto bene l'America e di conoscere anche molto bene New York, mi sono ritrovata 6-7 mesi dopo a pensare che dell'America non sapevo nulla e che New York non l'avevo mai vista, nonostante come dicevo prima film, serie tv eccetera. La New York vera, quella quotidiana, quella che si vive ogni giorno è molto distante da alcuni stereotipi, è una città che poi si trasforma potremmo dire in un organismo che vive, respira e vibra proprio attraverso i suoi stessi abitanti e che finisce per inglobarti se vogliamo. Può essere una città molto difficile, molto dura, molto violenta come effettivamente è, ma può essere anche una città molto accogliente e molto materna. Lo stesso stato di New York se si guarda la cartina geografica appare come un braccio teso, non a caso migranti e voli diciamo così arrivano proprio qui nella città di New York oramai da decenni, da generazioni. I nonni di Martin sono un omaggio a queste generazioni che ci hanno preceduto, che sono arrivati qui non con un volo in prima classe, ma con la famosa valigia di cartone e una lunga traversata molto difficile da affrontare. Quindi la mia esperienza personale si intreccia l'esperienza di Martin come appunto un'europea che arriva in America pensando di sapere tutto, pensando di conoscere questo paese e accorgendosi poi invece di conoscere veramente poco di questa città e di questo immenso stato. E allora vogliamo conoscere qualcosa di questa città, qualcosa di quello che è nello sguardo di questo giovanissimo Martin Gayle con i suoi nove anni, che cosa ci legge Federica Piacentini? Allora io leggerei un passo che racconta un po' la città e cerchiamo di camminare un pochino tra le strade di New York e si tratta di un paragrafo tratto dalle prime pagine. Adesso i due camminavano l'uno accanto all'altro con andatura meccanica, dondolando le braccia e allargando bene le gambe per non scivolare. Imboccarono Sullivan Street, fiancheggiarono la gigantesca libreria dell'università e sboccarono sulla West Third Street. La bufera li costringeva a tenere gli occhi succhiusi ed era facile perdere l'orientamento. Le strade si mostravano uguali, le eveni o altrettanto. A malapena si riconoscevano alcune delle insegne che cigolavano, che battevano contro le saracinesche, che roteavano su se stesse come impazzite. L'area maleodorante, insalubre e pesante del centro di Manhattan, che laggiù inghiottiva alla cima dei grattacieli, era come purificata. Central Park aveva l'aspetto di un fantasma immane. Le querce e gli olmi resistevano, ma gli alberelli più minuti erano svaniti sotto il peso della neve. Il laghetto ghiacciato, sull'ottantaseiesima, si riquefaceva e gli uccelli avevano sceduto il cinguettio al sibilo delle chiome. Qui, per ascoltare il silenzio della civiltà, c'era una sola occasione, la notte del 24 dicembre. Un silenzio kafkiano e onirico. Nessuno per le strade e per le avenue, pochissime auto, nessun chiacchiericcio o scalpiccio. Niente di niente, se non la quiete con New York non ha mai ambito e che subito svanisce come un ricordo fragile. Ma quel giorno, il secondo dell'anno, tutti erano rincasati frettolosamente, scontrandosi senza chiedere scusa, ognuno pensa per sé e Dio per tutti. La città raccontava di famiglioli rintanati in ogni dove, tavole pronte e ben apparecchiate dietro le finestre, libri aperti sulle poltrone e sguaiate telepromozioni in tv. Quella era l'isola più popolata del pianeta, eppure non si coglieva alcun bisbiglio, solamente qualche sirena dei pompieri richeggiava spingendosi fino alla costa, subito spenta dall'Azon, che agitava le sue rive sollevandosi e ricadendo, e poi risollevando ancora il petto, come impegnato in una lite con l'East River, che dall'altra parte bagnava il Queens e il Bronx. Comincia a Brooklyn, è il titolo del romanzo di Federica Piacentini pubblicato dalla casa elettrice Nutrimenti. Adesso una domanda che, per scoprire che cosa fa Federica Piacentini, leggendo sempre le risvolte di copertina, scopriamo che lei è professional creative coach. In che cosa consiste praticamente questa attività? Il coaching è definita la disciplina del nuovo millennio, è una scienza che si occupa di aiutare le persone a trovare le proprie risorse per arrivare a definire delle soluzioni. Io mi occupo di creatività, quindi mi sono specializzata in questo campo, ma il coaching può essere utilizzato in qualsiasi ambito della nostra vita, quindi in ambito lavorativo, in ambito appunto creativo, nell'ambito delle relazioni interpersonali, eccetera, eccetera. Nel caso della creatività, il coaching utilizza una serie di esercizi che ci aiutano a tirar fuori ciò che siamo davvero, ovvero degli esseri creativi insieme a degli esseri umani e capaci di esprimersi non soltanto, non parliamo soltanto di scrittura, ma nell'arte, in qualsiasi altra forma artistica, in qualsivoglia forma artistica. Prima di salutarci Federica Piacentini, qual è invece il libro che ne fa compagnia in questi giorni? Il libro che mi fa compagnia in questi giorni è quello di Nevo, Tre Piani, e lo sto amando particolarmente, sono oramai quasi alla fine, mi mancano una decina di pagine. E lasciamo la lettura finale del nuovo romanzo di Nevo a Federica Piacentini e la ringraziamo intanto per il tempo che ci ha dedicato, per averci fatto conoscere il suo protagonista Martin Gayle e con il romanzo Comincia a Brooklyn. Devo sempre fare attenzione e glielo rivelo adesso a fine di questa conversazione, perché Martin Gayle io spesse volte quando mi è successo, raccontandolo così in redazione prima di questo collegamento, io l'ho chiamato Marvin Gayle, che è un personaggio musicale ma non ha nulla, nulla, nulla a che fare. Grazie davvero Federica Piacentini. Grazie a voi, davvero grazie.